L'incoerenza di questo sindaco, del PD e di questa maggioranza. Qualche giorno fa dicono con l'assessore Caudo che lo stadio è la migliore operazione urbanistica degli ultimi venti anni. Oggi fanno un convegno per dire che lo stadio della Roma non va bene. Si dicono favorevoli alle unioni civili, storcono la bocca quando noi ad agosto scorso depositiamo la prima proposta di unioni civili semplicemente per metterci il cappello. Noi la ritiriamo per venire l'incontro, la ridepositiamo tutti quanti insieme a settembre scorso. Da allora questa proposta è chiusa nel cassetto della Capigruppo e viene calendarizzata per finta. viene calendarizzata per finta mettendola all'ultimo punto dell'ordine dei lavori appositamente per non discuterla. L'incoerenza di Imma Battaglia che dice che si dimetterà o meglio che lascerà la maggioranza laddove non venga approvata questa proposta di delibera e poi puntualmente non lo fa. L'incoerenza di questo sindaco e di questa maggioranza che nel piano di rientro dichiarano che non faranno licenziamenti ma poi sappiamo che 78 lavoratori di risorse per Roma occupano la sede della società che si mandano a casa interrompendo le trattative 200 lavoratori del teatro e dell'opera e che 52 lavoratori, non 51 consigliere De Luca, stanno occupando il Campidoglio e questa maggioranza e questo sindaco dimostrano di non conoscere neppure il tema perché quando ci hanno parlato, ci hanno parlato per modo di dire perché nel momento in cui l'hanno salutati gli hanno detto buon lavoro, li hanno confusi con i 2500 dicendogli a luglio abbiamo risolto il vostro problema e questo è grave perché voi potete prendere tutte le decisioni del mondo ma non c'è nulla di peggio che dimostrare di non conoscere i temi e aggiungo in finale anche l'incoerenza di questa presidenza che ogni volta che si aprono i lavori di quest'aula continua puntualmente a seguire un ordine degli interventi ben preciso dando puntualmente per primi la parola ai consiglieri dei gruppi di opposizione minoritari quando il presente gruppo è il principale gruppo di opposizione e come gruppo di opposizione rivendichiamo questa nostra prerogativa l'incoerenza di questa maggioranza che non merita di governare Roma